Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 29 voti favorevoli e due contrari del Movimento 5 Stelle una proposta di legge che prevede tre interventi a favore del sistema economico toscano a sostegno di imprese e comparti più colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il primo a favore degli operatori del sistema neve a cui viene riconosciuto un contributo a fondo perduto che sarà quantificato sulla base delle risorse regionali disponibili e potrà essere rideterminato proporzionalmente qualora le richieste dovessero superare la spesa massima prevista pari ad 800.000 euro. Poi un contributo straordinario di 150.000 euro per il progetto By Design e infine risorse fino all'importo di 237.838 euro per la completa realizzazione degli interventi di miglioramento della fruibilità dei cammini regionali. Sì, si tratta di una norma che abbiamo accelerato poiché in particolare sul sistema neve dove si stanziano 800.000 euro vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno tutti i gestori a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. È una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti, dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Insieme a questo si affianca il sistema del design, quindi 150.000 euro che derivano da un accordo nazionale fatto con il Ministero degli Affari Esteri, con il sistema delle Camere Esteri, con la Università di Architettura di Firenze e sono risorse che serviranno per l'internazionalizzazione. Quindi individuando un centro che fa da incubatore, una sorta di incubatore per tutte le aziende sull'internazionalizzazione legata appunto al design al sistema del mobile. L'ultimo ambito in cui abbiamo stanziato le risorse sono circa 230.000 euro, si tratta dei cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate, quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali. Quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana. Voi sapete che ce ne sono tantissimi che sono un settore di grande risposta turistica in questo momento e che sono stati valorizzati in questi anni tantissimo dalla stessa regione. Queste risorse consentono a tanti comuni di poter continuare questi lavori che erano rimasti appunto parzialmente eseguiti. Siamo innanzitutto di fronte a un provvedimento che dal nostro punto di vista pecca per quanto riguarda appunto lo stile, quantomeno della normazione. Si è cercato di fare un unico calderone mettendo insieme settori diversi. Dal nostro punto di vista è chiaro che in questo momento in particolare ogni forma di sostegno economico che appunto sia messo in campo dalla regione su certi tipi di settori ci vede favorevoli. Dall'altra però non possiamo che censurare questo tipo di frenesia normativa, mettiamola così. Da una parte sostegna il sistema neve, dall'altra ci mettiamo anche dentro il sostegno al settore del mobile e infine riusciamo a ritrovare alcune risorse per sostenere i cammini, quindi i progetti sui cammini dei comuni. È chiaro che di fronte a questo stile normativo occorreva a nostro avviso una maggiore organicità, anche perché altrimenti si perde quell'intento che può essere sicuramente condivisibile di sostenere determinati settori. Qui è mancata una certa organicità e questo ci sentiamo di censurarli. Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato in questi mesi, ormai da un anno, un'attenzione particolare alla montagna che ha sofferto tantissimo, più di altre zone, il lockdown e la pandemia. Due inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti, nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti. Ecco, questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno. Pensiamo che si possa fare ancora di più, ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla Regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve, che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività, magari in zone più marginali, che vengono definite montagne soltanto sulla carta, che hanno avuto difficoltà ma non del 100%. Quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi. Soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla Regione per alzare i massimali, perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda e quindi cercheremo di intervenire in quella direzione. Speriamo che arrivi il prima possibile in porto la proposta di legge che come Fratelli d'Italia abbiamo presentato su riconoscere ad Abitone Cutigliano il ruolo di capitale toscana dello sport 2022, perché anche quello può essere un importante contributo per uscire nel dopopandemia il più forte possibile. Oltre un milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato, 800.000 euro, uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile, il centro sperimentale mobile di Poggi Bonzi è un'eccellenza, ormai a livello nazionale sarà volano dello sviluppo, del design, dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo con un finanziamento straordinario di 150.000 euro e poi oltre 200.000 euro a favore dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda la legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentato ma non erano stati finanziati. Quindi si tratta di un pacchetto economico di un milione di euro sul quale daranno fiato alla nostra economia toscana. È stato un curioso provvedimento, Potpurri lo chiamereido, che mescolava tre argomenti completamente diversi, cosa che anche la tecnica legislativa sconsiglia. Un breve flash su ciascuno degli argomenti. Il settore neve sicuramente merita sostegno, però attenzione perché ogni anno, da quando almeno io sono all'interno del Consiglio, quindi sono sei anni, vengono presentati dei contributi, una tantum al sistema neve. E è l'ora, credo, a questo punto di cercare di promuovere una diversificazione anche del tipo di turismo e delle attività che vengono fatte perché altrimenti si rischia di rincorrere sempre di più i proventi mancati di una stagione sciistica che per il clima diventa sempre più corta. I cammini regionali anch'essi hanno ricevuto negli anni spesso dei contributi. È giusto continuare a darli perché i cammini sono sicuramente una risorsa per il turismo lento in regione toscana che valorizzata, pensiamo al cammino di Santiago di Compostela, può essere una grande risorsa sotto tanti profili, però bisogna anche vedere come vengono spesi questi soldi perché appunto questo non è certo il primo contributo. Assolutamente è spiegabile il contributo al centro sperimentale del mobile della provincia di Siena, 150 mila euro per un progetto di internazionalizzazione che in pratica non verrebbe nemmeno attuato dallo stesso centro ma verrebbe in pratica appalmattato all'università e soprattutto non si capisce l'arbitrarietà con cui è stato scelto di promuovere quel distretto piuttosto che altri. Cascina, la mia città e Perignano, altre zone pisane, hanno dei centri di assoluta eccellenza, lo stesso posso dire di Quarrata, di mille altre attività toscane di artigianato e di eccellenza da internalizzare. Internazionalizzazione che tra l'altro fa già la Camera di Commercio e fa già la Regione Toscana con le sue agenzie. Perché regalare 150 mila euro quindi a questa società che ricordo è un SRL? L'assessore non ha saputo risponderci. Ad Empoli i fine settimana saranno all'insegna dell'atmosfera natalizia dal 13 novembre 2021 al 16 gennaio 2022 con Empoli città del Natale. Nella città saranno presenti molte attrazioni, come una grande nevicata che imbiancherà tutta Piazza Farinata degli Uberti, il Luna Park, la pista sul ghiaccio, il trenino turistico per le vie illuminate del centro e i mercatini di Natale. È qualcosa di davvero stupendo, ho avuto l'opportunità di vederla due anni fa perché lo scorso anno non si è potuto svolgere, è un segnale di speranza e di ottimismo che al di là delle convinzioni religiose di ciascuno di noi ci permette di guardare davvero al futuro in maniera differente. Il Natale è questo, è la festa dei più piccoli, è il modo con cui noi vogliamo guardare con speranza ed ottimismo al prossimo anno. Io vorrei solo ricordare lo scorso anno che cosa significava per tutti noi. Avevamo saputo che stavano per arrivare i vaccini, però non c'erano, non c'erano ancora, non c'era la possibilità e la speranza di tornare a rivivere insieme, di poterci guardare negli occhi quella socialità che tanto c'è mancata. Ecco, rivedere il Natale a Empoli mi dà quella speranza che questa socialità può continuare ad esserci e se questo davvero avviene potrà continuare a avvenire e grazie soprattutto alla vaccinazione a cui tante cittadine e tanti cittadini toscani hanno dato la propria disponibilità. Consentitemi di ringraziare il Presidente Sostegni sia per aver voluto oggi qui questa presentazione ma anche per il lavoro importante che svolge come Presidente della Commissione Sanità di ringraziare il Comune di Empoli per averci creduto. Non è semplice e scontato vedere quelle vie, quelle piazze piene di persone, da un lato ci dà speranza e ottimismo, dall'altro, e mandiamo un messaggio ai cittadini toscani, partecipate perché tutto avverrà in sicurezza. Sarà possibile godersi le splendide piazze di Empoli, potersi godere, diciamo, la voglia di tornare a guardare con speranza e ottimismo al futuro. Insomma, grazie per questa iniziativa perché è un messaggio positivo che mandiamo alle cittadine e ai cittadini toscani. Intanto ringrazio il Presidente Mazzeo che ha accolto la richiesta del Comune di Empoli di organizzare qui la conferenza stampa del Natale che ormai ha la sua quarta edizione e quindi è un Natale giovane ma in realtà che è cresciuto tantissimo se consideriamo poi nel mezzo c'è stata anche l'epidemia che ha bloccato l'anno scorso sostanzialmente lo sviluppo di questa esperienza che ha raggiunto gli obiettivi sperati che sono quelli intanto di rivitalizzare tutto il centro, di fare un evento per Empoli e per il commercio di Empoli importantissimo. Ma andando oltre, diventando anche un'attrazione turistica che porta gente ormai con pacchetti che vengono anche da fuori regione e quindi davvero un'esperienza di rilancio del centro commerciale naturale di Empoli che ha portato anche poi a estendere questo efficace a tutto il territorio con termine. Quindi insomma siamo contenti che quest'anno finalmente si possa riprendere in presenza con le attenzioni dovute alla situazione e all'emergenza pandemica che ricordiamo non è ancora superata ma che comunque potrà portare nuovamente una grande boccata di ossigeno a tutto il commercio di Empoli e rilanciare di nuovo l'immagine della nostra regione un po' di tutto il paese. Ritorniamo diciamo nel periodo di pace perché l'anno scorso abbiamo fatto un Natale in tono minore per dargli comunque continuità e fiducia. Eravamo scettici l'anno scorso se farlo o no però per non vivere un periodo di quaresima l'abbiamo fatto diciamo sempre in tono minore. Quindi ritorniamo a quello che diciamo il mondo si è raffermato diciamo l'edizione 2019. L'edizione 2019 che è stata l'edizione per noi di successo anche perché i numeri ce lo hanno confermato più un 35 per cento nel fatturato quindi un parallelismo tra l'anno prima 2018 e 2019. quest'anno allunghiamo perché ovviamente la sofferenza da parte dei commercianti si è sentita in questo anno quindi allunghiamo quello che è il periodo del Natale aggiungendo due fine settimane in più. Nel 2019 perché questo è il punto di riferimento su cui possiamo basarci ci furono 600.000 presenze. Quest'anno ce ne attendiamo almeno 100.000 in più quindi 700.000 con una spesa diciamo a persona di almeno circa 30 euro che è una spesa accessibile. Questo perché stiamo stiamo andando incontro alle necessità del commercio. Vorrei sottolineare che tutte le associazioni di categoria hanno fatto nucleo e hanno fatto squadra per perché si avverasse questo evento nonché le aziende leader del nostro territorio per cui ci aspettiamo veramente una città del Natale su Empoli che abbia un veramente un grande risvolto. Ci candidiamo a essere se volete la Salerno della Toscana e non ultimo questa edizione sarà ampliata con un perimetro più ampio e sarà dedicato anche in piccola parte alle frazioni. Quindi non sarà un'Empoli centrica ma sarà ampliata a tutto il territorio cittadino. Sicuramente per tutto il commercio è il Natale della ripartenza, un evento organizzato con l'amministrazione e con l'associazione di categoria tutto l'anno in ottemperanza a tutti i decreti che sono in vigore per le normative Covid. L'evento sarà un evento totalmente in sicurezza. Stiamo lavorando forte con due partner che è Ennegan e Save the Planet per cercare di creare un evento anche eco sostenibile a impatto zero e siamo pronti ad aspettare tutte le persone dal 13 di novembre a visitare la città. Tanto turismo la risposta è veramente forte anche da fuori della regione perché tantissimi tour operator ci stanno contattando quotidianamente per organizzare comitive per venire a visitare la città. Quindi fa molto piacere questa cosa. Innanzitutto come amministrazione ovviamente siamo super felici di poter riospitare la nostra città, il Natale e tanti cittadini non soltanto della nostra città ma anche di tutta la regione toscana. Questo è un progetto che appunto coinvolge non soltanto il commercio ma anche la cultura e il turismo. Noi facciamo parte di quello che è l'ambito dell'Empolese Valdelsa e la nostra regione in questi mesi ha lavorato moltissimo per la promozione turistica. Ci fa piacere che Empoli possa rientrare in qualche modo nel periodo diciamo meno turistico, è quello della dicembre perché Empoli non è poi una meta conosciuta per il turismo, possa rientrare invece nelle tante prenotazioni, nelle tante visite di cittadini non soltanto della nostra regione ma anche dalle regioni esterne appunto confinanti ma non soltanto. Quindi per questo sono molto contenta, le iniziative culturali saranno tante, si alterneranno nei vari settimane da novembre fino a dicembre e quindi vi aspettiamo tutti a Empoli per la città del Natale.